Gentili telespettatori, buona giornata. Dei ragazzi vanno a Capri e vanno al bar Piazzetta, si chiama proprio così, al bar Piazzetta Capri, e lo scontrino è da 78 euro per la colazione. Hanno pagato 78 euro per sei cornetti, tre al cioccolato, uno alla crema e due vuoti, tre caffè, un cappuccino e due latte macchiato. Uno di loro ha raccontato il video su TikTok, giudicando eccessivo il prezzo finale. Insomma, eccessivo. Quei soldi mi bastavano per i caffè di un mese e mezzo. Allora, nel filmato in questione accompagnato dal commento no vabbè, il ragazzo che mostra lo scontrino a un certo punto riprende anche il resto della sua comitiva, anche se qualcuno di loro si copre il volto per non farsi vedere. Tante le reazioni al filmato, gli utenti però si sono divisi, da una parte c'è chi ha gridato allo scandalo, dall'altra chi invece ha detto che a Capri è normale pagare così tanto. Qualcuno dice, è Capri, vuoi andare? Paga. Commenta un utente, mentre altri hanno fatto notare che in genere i prezzi dell'isola sono quelli. Non ci dovrebbe quindi stupire di pagare 14 euro per un cornetto e un cappuccino. Ma c'è anche chi non lo vede allo stesso modo. Dice, non è nemmeno uno scontrino fiscale, ha sottolineato una ragazza, mentre un'altra ha suggerito di chiamare la finanza. Infine c'è anche chi scherza, al bar dove vado io di solito con 78 euro mi lascia anche le chiavi. Allora, ho notato anch'io che lo scontrino c'è scritto preconto tavolo 55. Preconto. Bisogna vedere se quello poi... Tu di solito porti il preconto al tavolo, lo scontrino, dai i soldi, ti alzi e te ne vai ed è finita. Allora, non lo sappiamo, eh. Il preconto mi sembra un po' strano. Tu fai il conto, non fai il preconto. Cosa fai il preconto? Per dire, verificalo se ci ho messo un cornetto in più? Anche se ci fosse un cornetto in più con quei prezzi lì. Preconto. Eh? Il preconto. A me personalmente non è mai successo il preconto, che ti portano il preconto. Ok, io avrei detto, va bene, questo è il preconto, va bene, portami lo scontrino reale, che ti pago. Sì, ok, il preconto cos'è? Per essere d'accordo? Vabbè, portami quello reale. Un cornetto, cioè una brioche, col cioccolato 7 euro. E il caffè 7 euro. No, scusate. Dallo scontrino vedo che tre cornetti al cioccolato 15 euro, quindi 5 euro una brioche al cioccolato e un caffè 7 euro. 5-12 euro un caffè e una brioche. E allora il cappuccino cosa sarebbe costato? Insomma, forse 20 euro, più di 20 euro un cappuccio e una brioche. Per quanto il posto possa essere rinomato, non lo so, io a Capri perché non ci sono mai stato. Sarà un posto super wow? Sarà un posto d'elite? Sarà un posto per milionari? Non lo so. Ne dubito, però non lo so. Può essere che è anche un posto super d'elite? Come dicono in molti, se tu vai lì i prezzi sono quelli. Ma un bar può fare i prezzi che vuole? Sì. Può vendere un caffè a 7 euro? Credo di sì, a patto che i prezzi siano visibili, nel senso, io personalmente a volte decido di buttare i soldi in qualcosa, ma ne sono consapevole. A me è capitato di andare in un bar, ve l'ho raccontato, di fronte alla stazione di Bologna, è un bar che ha dei prezzi per, come ve lo posso dire, un po' quei prezzi fregaturisti. Però io dovevo parlare con una persona, avevo fretta, ed ero consapevole dei prezzi. Mi ha portato il listino e c'era scritto che una brioche costava 2 euro e mezzo e praticamente due cappucci e due brioche 9 euro e mezzo. Due cappucci e due brioche 9 euro e mezzo. Io l'ho visto, pertanto io sono stato consapevole dei prezzi e ho comprato. Sarebbe cretino vedere i prezzi, comprare, poi andare in giro con lo scontrino, guarda cosa ho pagato a Bologna, ma che roba. E insomma, bisogna vedere se in questo bar, prima di ordinare, tu conosci i prezzi. Dici, caspita, 7 euro un caffè, 5 euro una brioche, tu puoi decidere se fermarti al bar o no. Quindi, prima cosa, bisogna vedere se tu hai un menu dove puoi vedere i prezzi. Sarà anche un posto d'elite, ma davvero si può vendere a quei prezzi un caffè 7 euro? Io posso permettermelo un caffè a 7 euro, posso permettermi una brioche a 5 euro, ma mi sembrerebbe proprio di buttare via i soldi, nel senso che a me i soldi non li regala nessuno. Io i soldi li guadagno. Posso pagare anche un cappuccio 2 euro e mezzo. Posso pagare anche 4 euro cappucce brioche alla stazione di Bologna, di fronte alla stazione di Bologna. Però se fosse stato 10 euro un cappuccio in a brioche, 20 euro due cappucci in a brioche, probabilmente avrei detto, vedi, facciamo due passi, cerchiamone un altro. Perché, come vi dicevo, buttare i soldi poi è immorale. C'è tanta gente che fa fatica per mettere un piatto di pasta. Mi dico, io posso permettermi queste cifre, però mi sentirei proprio a disagio, mi sentirei proprio preso in giro. Però, se i prezzi li sono chiari, se la gente lo sa che costa quello e lo vuoi pagare, se tu li vuoi pagare e ti senti bene a pagare 7 euro un caffè, fallo pure. Il bar lo può fare, è lo che lo faccia, lo può fare. L'importante è che sia tutto chiaro, nel senso che se tu vai lì, al bar Piazzetta Capri, sai che i prezzi sono quelli, sono lì esposti, li leggi, vuoi sederti lì per sentirti quello ricco nella Piazzetta? Se vuoi farlo poi ci sono anche quelle conseguenze lì, nel senso se vuoi farlo poi paga. Io, anche se fossi arrivato lì con lo yacht e con la Ferrari, insomma, mi sarebbe sembrato proprio di buttarli via, mia opinione personale. Io, se vedo una cosa del genere, non mi fermo, tutto ha un limite, insomma, buttare via i soldi così, un caffè 7 euro, io personalmente non mi sarei fermato a fare tutta la scena di quello seduto che si prende il caffè. No, per me c'è un limite a tutto e vi dico, me li posso permettere tranquillamente, senza problemi, ma non lo faccio e non lo farei mai. Grazie a tutti, arrivederci.